Il Tivotropici è una società di servizi per il turismo nata 15 anni fa grazie alla costanza di due personaggi baresi, uno sono io Enzo Picchieri e l'altro il mio socio Antonio D'Urso. Entrambi venivamo dal mondo dell'animazione turistica e decidemmo di creare qualcosa di solido in Puglia che potesse far lavorare tanti ragazzi. Dopo 15 anni siamo presenti qui alla Fia del Turismo e ancora presenti per far lavorare tante persone nei nostri villaggi e quelli del tour operator per cui collaboriamo. Per cui aspettiamo che tanti giovani vogliano perseguire questo obiettivo, basta inviare un curriculum presso la nostra sede oppure attraverso il nostro sito www.obiettivotropici.it e compilare il forum online che previene poi la possibilità di poter essere contattati e fare selezioni direttamente nelle nostre sedi.